ciao a tutti e bentornati a crime and comedy il podcast di true crime condotto da due comici e cioè marco champier e clara campi ciao a tutti ciao a tutti allora oggi parliamo di una storia stranissima una storia che all'inizio non sembra nemmeno di true crime ma poi verranno a galla delle cose perché oggi parliamo della misteriosa sparizione di mike williams eccoci qui per parlare di questa storia molto strana ma prima dobbiamo fare degli auguri dobbiamo fare gli auguri di compleanno ai nostri patreon quindi tanti auguri a david da parte di giuseppina nicolò poi auguri a elisa con leoni e a beatrice corradi auguri ragazze auguri anche perché alcuni mi sa mi sa elisa abbiamo dovuto recuperarlo da giugno che si è vero in ritardo elisa scusaci ragazzi quando fate quando state per fare gli anni un mesetto prima scriveteci su patreon così siamo sicuri perché non abbiamo un segretario l'abbiamo detto esatto vi chiediamo scusa non lo facciamo sì sì e non sappiamo in memoria tutte le date dei vostri compleanni perché purtroppo abbiamo la ram molto limitata però c'è già gente che ci ha segnalato i compleanni a febbraio dell'anno prossimo ma fanno bene fanno bene però mandateci un reminder un mese prima che non possiamo garantire niente comunque poi ringraziamo anche i nostri anzi le nostre nuove crime stalker che è il livello più alto di abbonamento su patreon quindi grazie mille a tania costoli e a saracampa benvenute nella famiglia patreon benvenute grazie per il sostegno esatto e poi ovviamente ringraziamo i nostri nuovi i bristofili allora ragazzi abbiamo da recuperare un po di nomi quindi se vi siete iscritti nell'ultimo mese magari non vi abbiamo ancora salutato abbiate pazienza ancora un paio di settimane finalmente arriveremo al vostro nome perché appunto non possiamo fare gli elenchi lunghissimi intanto per ora ringraziamo le nostre nuove sostenitrici giulia elis mattolicchia giulia meneghello boom oppure bmm e bo bmm bmm ok poi f chiara cappadona andrea de gaspari e claire torsiello grazie di esservi iscritti a patreon come bristofili e godetevi la vostra puntata extra perché ricordiamolo gli bristofili e i crime stalker hanno diritto a una puntata extra ogni mese sì sì e che tra l'altro se vi iscrivete adesso ce ne sono già un botto ce ne sono 15 di più no di più e no di più ma va cosa sto dicendo abbiamo cominciato ottobre del 2021 quindi fate un po il conto sono sì sì è una ventina 21 22 esatto puntate lunghe normali tra l'altro è quindi comunque se siete in assinenza di crime in comedy potete anche farvi un mesetto su patreon ma iniziamo con questa strana strana storia no aspetta aspetta clara prima dobbiamo ricordare che il 24 luglio siamo a Roma e allora non in questo momento quando stiamo registrando non abbiamo ancora il link per i biglietti però appena l'abbiamo lo mettiamo sul sito sul sito però ci sono già i contatti per prenotare il posto quindi numero di telefono e mail quindi sul sito in alto c'è eventi live nel menu a discesa del cellulare o nel menu del sito desktop esatto eventi live lì c'è la data del 24 a Roma e ci sono i posti ci sono i numeri alla mail per prenotare i posti quindi appena ovviamente abbiamo il link per comprare i biglietti poi lo metteremo e lo spammeremo in questo momento che stiamo registrando non c'è quindi affidatevi a quello già sono prenotando sì sì è stata una data che è venuta fuori inaspettatamente noi eravamo convinti che chissà quando saremmo tornati a Roma e invece c'è uscita fuori questa data l'abbiamo accettata al volo però siamo un po ridosso della data quindi prenotate e controllate i nostri social oltre il sito per avere i link per i biglietti appena possibile ma ora e ricordiamo 24 luglio 24 lo ridiciamo lo ridiciamo allora iniziamo con questa storia jerry michael williams detto mike è un amante della caccia alle anatre è la sua grande passione quindi la mattina presto del 16 dicembre del 2000 è al lago seminole che si trova al nord della florida si è lì cosa c'è io so fare il richiamo per le anatre fallo esatto è vera lì con il rischietto per il richiamo aveva anche sai le papperelle con le finte sì sì che sono sceme le anatre comunque sì 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 per essere esseri umani sono sceme per essere anatre penso che abbiano un livello di intelligenza normale comunque lui è lì sulla sua barca intanto sua moglie Denise lo sta aspettando a casa perché devono partire per i weekend perché il giorno successivo sarebbe stato il loro sesto anniversario di matrimonio però loro stanno insieme da un sacco in totale sono insieme da 15 anni perché loro si sono conosciuti alle superiori ok mike sarebbe dovuto rincasare entro mezzogiorno per poi appunto partire avevano prenotato un hotel sulla spiaggia per passare weekend insieme quindi lui doveva tornare verso mezzogiorno ma alle due non è ancora rincasato al che Denise inizia a preoccuparsi inizia a chiamare in giro perché chiama in giro perché mike non risponde al suo cellulare visto che quest'uomo qui non torna a casa non si hanno tracce di lui inizia una grande ricerca per trovare appunto mike vanno sulle sponde di questo lago perché si sapeva che sarebbe andato lì a cacciare le anatre e trovano effettivamente la sua macchina ma non trovano lui e dovevano fare un richiamo del mike e mettere dei piccoli mike finti vabbè comunque inizia una ricerca disperata ma questo quest'uomo non si trova dopo mesi ancora non c'è nessuna traccia di lui è proprio svanito però dato che è scomparso mentre era in un lago in florida inizia a sorgere il sospetto che sia stato mangiato dagli alligatori ma è andata veramente così? scopriamolo ah ok lo sai tu lo sai no io lo so io lo so questa non è una puntata dove mi faccio solo delle domande ah ok no se fosse una capsule che quindi avevamo chiuso ah era già finita no 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 inizia adesso allora chi è questo mike? mike nasce il 16 ottobre del 1969 a Tallahassee in florida lui è il secondo figlio di questa famiglia il maggiore si chiama Nick suo padre si chiama Jerry anche lui e quindi Mike si fa chiamare Mike perché il primo nome sarebbe Jerry lui sarebbe Jerry Junior si ok giusto e di lavoro fa l'autista dei Greyhound Buses oh e tornano prepotentemente hai visto? si purtroppo in questa storia nessuno fisicamente prenderà un autobus però c'è il padre di Mike che è in giro a guidarli quindi giusto quindi ci sono e sua madre si chiama Cheryl loro sono una famiglia particolare i genitori sono un po' hippie Cheryl tra l'altro si è sempre fatta due codini sempre e anche quando invecchierà e le verranno i capelli bianchi continuerà sempre ad avere i codini e loro sono persone che vogliono un sacco bene ai loro figli vabbè questo è normale però vogliono dare ai loro figli tutte le possibilità del mondo e quindi si privano delle cose per loro perché loro sin da quando nascono i bambini iniziano a mettere da parte i soldi per mandarli in buone scuole e quindi rinunciano a comprarsi una casa vera nel senso che si ritrovano con un terreno enorme non so se l'abbiano ereditato o se l'hanno comprato perché comunque in Florida il terreno non costa molto hanno un terreno gigantesco e sopra ci sono due trailer quindi due tipo container e vivono così però ai bambini piace tantissimo perché hanno un sacco di spazio per correre per stare in mezzo alla natura e Mike si appassiona tanto alla natura e inizia a chiedere arco e frecce sin da piccolino a me mi piace appassionato di natura da piccolo sterminiamola tutta esatto in quel senso appassionato della natura e comunque inizia a chiedere quest'arco e le frecce e i genitori sono perplessi perché appunto loro sono un po' hippie suo padre non ha mai cacciato in vita sua nessuno della famiglia caccia nessuno usa arco e frecce però per farlo contento a sei anni gli regalano quest'arco e le frecce e lui inizia a sterminare tutti gli uccelli però sin da piccolino non era per uccidere perché lo sappiamo la triade di McDonald's uccidere gli animali ma lui non è che li torturava lui li uccideva con le frecce e poi li portava a casa per mangiarli giusto quindi comunque lui da sempre ha fatto caccia sostenibile sì che ora noi possiamo essere contro la caccia io non potrei mai cacciare io per prima persona però lo trovo estremamente più etico degli allevamenti quindi sì allora io ho avuto parenti che cacciatori quando ero piccolo e allora la caccia sostenibile è quando cacci giusto per prendere quella preda lì e mangiarla cioè nel senso ovvio che se vai a caccia tiri giù 70 papere con le bombe a mano come fanno gli americani esatto non è che lo fai per mangiarle cioè se ne tiri giù una e poi te la mangi anche il mio zio che andava a caccia cioè quando andava a caccia tornava con un coniglio non è che tornava con una strage cioè non è che faceva una strage no? e no a meno che sei un ristorante tipo sì sì vabbè ma lì era per la famiglia no certo certo comunque vabbè questo Mike gli piacciono le avventure in mezzo alla natura i genitori appunto come dicevo stavano mettendo da parte i soldi per mandarli in buone scuole perché nel quartiere dove abitavano loro le scuole pubbliche non erano proprio il massimo ok loro volevano dare un futuro migliore ai bambini e quindi li mandano a una scuola privata li mandano alla quando devono andare poi alle superiori li mandano la North Florida Christian High School quindi una scuola cristiana non perché la famiglia fosse particolarmente osservante ma perché era la migliore scuola della zona giusto e allora Mike si trova benissimo a scuola sempre trovato bene sia da piccolo sia poi alle superiori alle superiori gioca a football e sapete che gli americani fanno l'annuario scolastico l'originale Facebook si chiama Facebook perché è il libro con le facce e l'annuario scolastico ok e ti danno tipo i titoli no miglior promessa queste cose qua lui ha ricevuto il titolo di miglior personalità accidenti sì lui era molto socievole stava molto simpatico ma andava a scuola con l'arco e le frecce perché essendo appassionato di natura ma a quel punto mi sa che era riuscito a farsi regalare il fucile per andare a scuola ah bene e quindi ma non lo portava a scuola no no ok vabbè anche lì caccia sostenibile tornava con un compagno no in realtà no no lì alle superiori conosce quello che sarà per il resto della sua vita il suo migliore amico Brian Winchester Brian ha un background diverso dal suo lui non è in quella scuola perché i genitori hanno risparmiato ogni centesimo da quando è nato è perché i genitori hanno molti soldi lui è l'unico di questa storia che parte già con un botto di soldi gli altri no giusto il suo migliore amico eh infatti eh sì eh sì comunque oltre a Brian in questa scuola Mike conosce anche quella che diventerà la sua fidanzata Denise Merrill che è una bellissima ragazza di buona famiglia loro sono una famiglia composta da quattro sorelle non hanno tanti soldi ma tengono moltissimo alle apparenze infatti lei nell'annuario verrà otterrà il titolo di miglior vestita meglio e la famiglia i genitori non hai preso il diploma ma sei la migliore quella vestita meglio di tutta la scuola brava guarda per sua mamma contava quello più che altro è una famiglia super 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 religiosa loro ecco mentre la famiglia di Brian è quella più ricca quella di Mike è quella più hippie quella di Denise è quella più religiosa ok a questo punto quando si mettono insieme a me hanno 15 anni e quindi a 15 anni Denise sarà la prima fidanzatina di Mike no è la quarta perché Mike sin da piccolo la figa piaceva un sacco eh sì lui ma infatti anche sua mamma dice lui ha iniziato a interessarsi alle ragazze proprio piccolino tipo 12 anni così iniziava già a guardare le ragazze che altri suoi coetanei neanche le vedevano no no c'era e vabbè se era stato nominato lì mister carisma o qualche e poi era molto carino occhi azzurri biondino faccia simpatica quindi riscuoteva molto successo tra le donne solo che con Denise è diverso perché con Denise la storia si fa seria da subito e da subito entrano uno nelle famiglie dell'altra diventa proprio il fidanzamento ufficiale e Cheryl che ricordiamo c'è la mamma di Mike ci sono un sacco vi sto dicendo un sacco di nomi ragazzi ma vi sto dicendo solo i nomi che continueranno a tornare nella storia ok se la gente non serve non ve lo faccio il nome non vi preoccupate Cheryl è molto contenta di questa relazione perché anche lei aveva conosciuto JJ perché Jerry il padre lo chiamava JJ alle superiori e quindi lei pensava che fosse normale conoscere il tuo compagno per la vita alle superiori e pensa che Denise sia perfetta la perfezione la migliore ragazza che suo figlio potesse portare a casa poco dopo anche Brian il migliore amico di Mike inizia una relazione con una ragazza che si chiama Kathy Aldridge e questa Kathy perché ho detto Kathy l'ho detto bene ma no Kathy è una delle prime fidanzatine di Mike ah ok quindi Brian si prende gli scarti gli scartini vabbè sì però sì però vabbè non è che uno scarto erano stati insieme da piccolini tra l'altro e poi si erano lasciati e poi c'è stato questo quest'altro colpo di fulmine allora tutti i protagonisti di questa storia sono bellocci lo dico visto che poi mi chiedete le recensioni estetiche non stiamo parlando di look da star di Hollywood quello no sono persone normali ma sono tutti belli bene almeno esteticamente questa puntata siamo a posto questa puntata va bene comunque loro iniziano ad uscire sempre insieme cioè non sono due coppie alla fine sono un quartetto sono sempre sempre insieme come quelle relazioni malate che vedi nei telefilm americani che stanno sempre insieme ti dici ma perché poi nei telefilm americani anche mio fratello è stato dieci anni in un quartetto che poi erano disperati volevano lasciarsi ma non sapevano come perché la loro vita era girava intorno a questo quartetto quindi quindi capisco bene la situazione di questi ragazzi comunque loro non si vogliono mai separare al punto che finite le superiori si iscrivono tutti e quattro alla stessa università per stare sempre insieme giusto giusto e quindi tutti e quattro vanno alla Florida State University nel 1992 Mike si laurea e inizia a lavorare nell'ambito del real estate quindi proprietà case quelle cose lì non fa proprio non fa proprio la gente immobiliare lavora non ho capito che cosa fa però non fa vedere le case alla gente ma lavora nell'ambito del real estate ok e magari finanziatore magari poi nei finanziamenti non lo so magari per ottenere i mutui sai tipo cioè non lo so non lo so poi come funziona lì no non ho capito esattamente il lavoro che facesse come avrete capito dalla mia descrizione però era un lavoro che aveva tante possibilità di carriera con buoni stipendi ok il truffattore no 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 lui da subito si mette giù a lavorare sodissimo al punto che il suo capo che tra l'altro il suo capo è innamorato di lui cioè proprio lo adora il suo capo lo definirà il più grande lavoratore che io abbia mai incontrato però ma perché secondo me Mike forse aveva anche un pochino una voglia di riscatto perché lui aveva avuto una famiglia stupenda non ha avuto traumi infantili nulla di tutto questo però sentiva che gli mancava sempre tutto che non aveva tanti soldi e quindi voleva voleva fare lui tanti soldi per darli anche ai genitori tra l'altro perché sono tutti molto uniti nella famiglia Williams beh sì ma ci sta come come cioè l'abbiamo visto tante volte no che magari gente cioè lo vediamo anche in vite scomode gente che magari ha poco tenta una specie di riscatto nell'età adulta sì esatto ma dico proprio il fatto che lui lavorasse così tanto era dovuto probabilmente a questo Denise che appunto è la sua fidanzata anche lei si laurea e inizia a fare la commercialista tra l'altro tipo per l'Inps cioè non ci hanno l'Inps negli Stati Uniti non è andata a lavorare per l'Inps però per farvi capire il tipo di lavoro che faceva mentre invece Kathy inizia a lavorare in una copisteria vabbè invece Brian il migliore amico di Mike va a lavorare da suo padre perché suo padre aveva una un'azienda di assicurazioni giusto quindi si mette a fare l'assicuratore per il padre a quel punto quindi loro loro seguono le tappe stabilite per la vita quindi ti laurei poi adesso cosa devi fare ti devi sposare la tappa successiva è quella certo ma già che si sono laureati prima di sposarsi perché negli Stati Uniti cioè ti conosci se ti conosci da più di un mese e non ti sei ancora sposato c'è qualcosa che non va i primi due a sposarsi sono Brian e Kathy che si sposano nel 1994 6 mesi dopo si sposano anche Mike e Denise sempre nel 1994 quindi ci tenevano ad avere lo stesso anno perché appunto loro sono un quartetto sono ancora super amici fanno le vacanze insieme e queste cose qua di lì a poco quindi questo sembra essere sembra andare tutto bene per Mike ma purtroppo succede una cosa molto triste perché poco dopo il matrimonio JJ che era il padre di Mike muore per un malore improvviso lui tra l'altro poverino aveva anche avuto un attacco cardiaco proprio il giorno del matrimonio del figlio quindi poi l'hanno dovuto portare in ospedale tutto e gran parte della cerimonia non c'è stato e vabbè problemi che si hanno e poco dopo il matrimonio gli viene un altro infarto e muore e muore senza lasciare nulla alla famiglia ma perché lui appunto faceva l'autista d'autobus e tutto quello che avevano messo da parte l'avevano poi speso per l'istruzione dei figli quindi muore senza lasciare nulla che poi alla famiglia hanno due figli adulti fa niente però Cheryl resta senza nulla anche perché Cheryl faceva aveva tipo un asilo in casa sai quelle cose che fanno gli americani ma non guadagnava tanto non teneva tanti bambini teneva i bambini nel vicinato quindi si ritrova un po' sull'astrico una volta che è morto JJ allora Mike inizia a riflettere sulla sua vita e decide che è il caso di farsi una bella assicurazione sulla vita perché comunque lui adesso è sposato lui e Denise stanno cercando di avere un figlio quindi è il caso di farsi un'assicurazione sulla vita perché non succeda quello che è successo alla sua famiglia d'origine e per fortuna guarda un po' il suo migliore amico che lavoro fa l'assicuratore e allora Brian lo aiuta a trovare la polizza migliore quella più conveniente quella che poi pagherà di più nel caso nel caso nel caso e vabbè ma vedi che amici gli amici si vedono in questi momenti nel 1999 nasce Stafford Winchester che è quindi il figlio di Brian e Kathy ti fa ridere il nome sì 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 beh no anche perché mi ricordo il commissario Winchester dei Simpson che in realtà non si chiama Winchester lo sai il suo nome originale è Wiggum in italiano è diventato Winchester ma perché eh ma perché Winchester è la marca di fucili quindi in italiano l'hanno eh lo so ma non ha senso lo stesso vabbè fa niente capito comunque tre mesi dopo la nascita di Stafford nasce Hensley Williams quindi la figlia di Mike per cui loro hanno cercato anche di riprodursi insieme insomma c'è stato uno scarto di tre mesi però sai non sempre riesci proprio a fecondare quel mese lì no eh ma perché loro si mettevano d'accordo su quando scoppare per riuscire ad avere poi figli contemporaneamente no eh ma mi sa proprio di sì mi sa proprio di sì comunque quindi tutto sta andando bene adesso sono nati anche gli eredi ma non tutto va bene per Mike perché purtroppo Denise dopo il parto ha una forma di depressione post partum che è una cosa diffusissima però si veste male si comincia a vestirsi male e dice io stavo con lei perché era quella vestita meglio esatto è quello il problema no vabbè inizia ad avere questa depressione post partum che è una cosa di cui non si parlava tanto nel 99 no no quindi lei non si fa aiutare come avrebbe dovuto magari non non è anche venuta in mente ah mi sento così perché è depressione post partum cioè magari mi sento così perché la mia vita è una merda invece di analizzare che non lo era stava andando tutto benissimo e comunque per via di questa depressione lei si chiude tantissimo in se stessa e soprattutto si allontana da Mike non non fanno più sesso che vabbè dopo il parto è anche normale poi ognuno aspetta quanto vuole però è anche normale però non non lo tocca più non si parlano più sembra proprio avere del fastidio nei suoi confronti e Mike non sa come comportarsi perché lui è un bravo ragazzo è un lavoratore però non mi sembra proprio la persona più esperta di psicologia e sentimenti no eh insomma cioè poverino non sapeva non sapeva cosa fare e quindi dice sì dimmi Marco no 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 vabbè però a discolpa di Mike che probabilmente a discolpa di un sacco di uomini che possono passare per insensibili o per poco attenti cosa che magari non sono se non sai quella cosa lì della depressione postpartum vedi solo tua moglie che si allontana che giù così che magari anche lei non sa spiegarti quindi magari tu ti senti un po' in colpa o dici vabbè una cosa passerà no cioè almeno io la vedo così cioè spesso sì sì dalla colpa che dici sono poco sensibili sono poco attenti vero vero però potrebbe anche essere un'incapacità di approcciarsi ai problemi personali dell'altra persona sì ma non riguarda solo gli uomini tipo io sono negatissima in quella roba lì cioè se uno ha un problema io non gli parlo per non disturbarlo che tutti mi dicono guarda che non va bene così dico lo sa ma io quando c'è un problema non voglio che la gente mi faccia domande quindi io non le faccio agli altri vabbè c'ho i miei problemi ma lasciamo perdere comunque Mike fa questo infatti dice aspetto aspetto magari magari passerà lui cerca di riconnettersi con Denise ma non trova il modo Denise comunque è talmente depressa che decide anche di non tornare al lavoro perché lei si era presa un'aspettativa dal lavoro ricordiamoci che negli Stati Uniti non esiste la maternità per il lavoro ti devi prendere le ferie funziona così e lei si era presa un'aspettativa ma decide di non tornare e smette anche di uscire di casa quindi ha una forma decisamente grave di depressione allora Mike che nel frattempo continuando a lavorare come un mulo e avendo fatto breccia nel cuore del suo capo per qualche motivo Mike aveva ricevuto un po' di promozioni si era fatto un sacco di soldi aveva ricevuto ottimi bonus per tirare su di morale sua moglie e compra una villa gigantesca e dici io mi tirerei su di morale veramente con una villa gigantesca però purtroppo non funziona non cambia niente eh dipende dai valori che hai no vabbè ma lui non sapeva che chiaramente qua c'è bisogno di un aiuto psicologico no però beh ma sì ma assolutamente ma sì ma la mia era una battuta però comunque noi uomini adesso cioè siamo un po' così cioè se noi ci troviamo di fronte a un problema aspettiamo qualche giorno che sicuramente passa cioè tipo vai in bagno fai la pipì rossa io non guardo per un 3-4 giorni sicuramente tornerà del colore del colore normale sai che dalle tue analisi del comportamento maschile devo dedurre che io sono un uomo anche io vivo la vita così vabbè comunque passa il tempo passa il tempo anche il quartetto un pochino si rompe per via di questa depressione di Denisa perché lei non vuole più uscire però Mike continua sempre a vedersi con Brian a sfogarsi con lui e Brian cerca di dargli dei consigli però Mike si rende conto che Brian gli dà dei consigli da uomo a lui serve un consiglio da donna allora va da una sua collega tra l'altro una sua collega che era andata in maternità tipo l'anno prima una cosa del genere che quindi aveva avuto un figlio da relativamente poco e gli chiede come mai Denise è così e poi le chiede ma quanto è normale aspettare prima di fare sesso dopo il parto no perché ormai sono passati quei 15 mesi e allora la collega lo guarda dice guarda ognuno aspetta quanto vuole ci sono donne che aspettano mesi però 15 secondo me ha un altro ostia questo dice la sua collega allora Mike che non ci aveva neanche pensato inizia ad insospettirsi e inizia un pochino non dico a controllare Denise perché non è che si metta a controllarla però a fare più caso alle cose che fa Denise e sul conto corrente è nota che mancano 3000 dollari che ora lui stava facendo tanti soldi però una spesa di 3000 dollari è una spesa che di cui tu parli col tuo partner prima di farla no? penso di sì sì no perché hanno tanti soldi ma non sono a quei livelli che ti compri tranquillamente la borsetta da 3000 dollari no no non siamo scusate non siamo a quei livelli ricordiamoci anche che le case che lui lavorava nell'ambito del real estate quindi magari è riuscito a trovare l'offertona perché era connesso e poi appunto le case in quella zona della Florida costano veramente poco beh sì anche perché quando passa il primo regano te la porta via quindi c'è tipo usegetta le case in Florida però al nord della Florida di solito no sì dipende dall'uragano sono stati colpiti anche lì sì vabbè comunque lui si chiede cosa servono questi 3000 dollari gli chiede a Denise e Denise dice ma volevo fare i brownie con la marijuana e quindi mi servivano quei 3000 dollari ora adesso io non so se siete consumatori o no però 3000 dollari di marijuana occupano tanto spazio ok ma tanto scatoloni di marijuana 3000 no e boh sì magari era il periodo contingente che quindi lei tipo ha preso mezzo chilo e ha speso 3000 dollari però sì ma poi scusa c'è che teglia devi avere quanti ne devi fare con 3000 non lo so ma poi questa marijuana Mike non l'ha mai vista quindi non si è capito se era una strana scusa per coprire qualcos'altro però tu devi coprire qualcosa e dice ho preso 3000 dollari di marijuana non si boh non si sa come sta di fatto che a Mike non gli ho offerto neanche un brownie eh no infatti quindi io mi sarei molto offesa per questo più che per altro però vabbè comunque ad un certo punto Mike che non sa veramente più cosa fare con Denise Mike deve andare ad un viaggio di lavoro a New Orleans che non è lontano da dove abitano loro però comunque è un viaggio di lavoro con l'hotel e tutto e la invita ad andare con lui e dice dai vieni perché magari mi prendo un paio di giorni extra così ci facciamo la vacanza poi vabbè quando vado alla conferenza tu vai alla spa a fare qualcosa così però Denise rifiuta rifiuta dice no è una cattiva idea perché io non voglio lasciare per quattro giorni la bambina ai miei e non ho voglia di portarmi la bambina a New Orleans quindi niente e allora Mike parte da solo torna tutto come sempre solo che non si sa come probabilmente parlando con Brian viene a sapere che nei giorni in cui lui era a New Orleans Denise aveva lasciato la bambina a sua madre ed era andata a Orlando a Disney World non era andata a Disney World e io questa cosa non gliela posso perdonare perché vai a Orlando e non vai a Disney World era andata a Orlando che cazzo c'è a Orlando beh Orlando è la capitale mondiale dei parchi di divertimento quindi anche se non vai a Disney World ci sono tutti gli altri e molti parchi di divertimento non solo Disney World hanno anche delle zone in cui non ti serve il biglietto per accedere dove ci sono bar fantastici ristoranti ancora meglio discoteche c'è di tutto è proprio la capitale del divertimento lì del divertimento proprio stile americano del divertimento artificiale sì 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 e lei magari è andata lì a vendere i brownies sì sì cinquanta sette chili di brownies alla marijuana qualcuno li deve pur mangiare secondo me i brownies li ha portati dietro perché lei non è andata da sola ad Orlando con chi è andata Marco eh sarà andata con la Winchester sì con i Winchester è andata a Orlando con Brian e con Kathy loro tre e pare che mentre erano lì forse è successo qualcosa a tre ve lo dico forse ve lo dico ve lo dico comunque non so non so Mike quanto capta di quello che è successo a Orlando sa solo che sua moglie non è andata con lui ma è andata con i loro amici però alla fine loro sono un quartetto sono famiglia no non c'è mica nulla di cui preoccuparsi no Mike non sapendo più come relazionarsi con sua moglie risolve non stando mai a casa quindi lui eh sì dimmi Marco no che è che è la cosa migliore cioè se a un certo punto un problema diventa ingestibile ignoralo alla morte proprio allontanati il più possibile è questo che fa inizia ad andare a caccia molto spesso in effetti va talmente tanto spesso a caccia che mi venga il dubbio che si mangi tutte le anatre che secca in effetti però vabbè va a caccia e con chi va a caccia di solito? con Brian con Brian col suo migliore amico e con Brian racconta di tutti i problemi con sua moglie Brian cerca di consolarlo nel 2000 mentre è a cacciadana tre con Brian perché sempre lì andavano a un certo punto lui cade in acqua e si impantana tra l'altro in una perché lì è tutto un po' paludoso in Florida ok lui si impantana perché era caduto tipo in quello che si chiama un buco di coccodrillo anzi un buco di alligatore scusate i coccodrilli non ci sono in Florida ci sono gli alligatori che non capirò mai la differenza no il coccodrillo è più quadrato l'alligatore è più magro tipo o è il contrario ma adesso ci scriveranno tutti gli zoologi però se non ne sapete i coccodrilli gli erpetologi si scriveranno gli erpetologi sì sì gli erpetologi e allora sì ci sono differenze strutturali tra coccodrillo e alligatore ma allora se non sbaglio il coccodrillo è quello che sta magari in Africa ed è molto più grosso l'alligatore è quello che c'è in Florida però potrei star dicendo una cagata assurda sì sì perché è una questione sì di dimensioni di forma della testa mi pare quindi poi del muso eccetera un po' più squadrato o no? eh non lo so secondo me non lo so dovevamo studiare questa cosa prima di fare la puntata non ci ho pensato vabbè comunque si parla di alligatori in questa storia qualsiasi forma essi abbiano sono gli alligatori e cade in questo buco per alligatori che non ho capito esattamente che cos'è tipo un buco che fanno gli alligatori e si crea una specie di sabbia mobile insomma una roba terrificante solo a pensarci e Brian cerca subito di salvarlo e per miracolo riesce a tirarlo fuori cioè questa è stata un'esperienza di quasi morte questo nel 2000 qualche mese dopo sono di nuovo a caccia e lui casca di nuovo in acqua perché allora è caccia alle anatre quindi devi andare nel lago con la barca però poi è caccia non è pesca no lo dico perché è così che siamo la situazione e per fortuna anche questa volta Brian riesce a salvarlo ma purtroppo dato che loro andavano a caccia ad anatre nei mesi più freddi che non so perché ma lì si fa nei mesi più freddi la caccia alle anatre e siamo al nord della Florida quindi comunque non ci sono temperature rigidissime ma d'inverno fa freddo e l'acqua diventa anche sotto zero quindi lui si prende una polmonite sto poveretto e niente dopo questa polmonite però sembra che Denise abbia si sia accorta che c'è un marito in casa non lo so se forse si è ammalato si è preoccupata oppure ha detto cazzo questo continua a cadere dalle barche non lo so le ha smosso qualcosa in sé cerca un pochino di riavvicinarsi a suo marito un giovedì perché un giovedì perché il giovedì ai tempi c'era in onda Friends perché non c'era lo streaming dovevi aspettare che uscisse la puntata e tutti i giovedì Cheryl e Nick quindi la madre e il fratello di Mike andavano a casa di Mike e Denise con la pizza per guardare Friends tutti insieme una cosa carinissima vabbè e quindi mentre sono lì a guardare Friends ad un certo punto Mike e Denise chiedono a Cheryl ma che ne diresti di diventare nonna di nuovo? e allora Cheryl si emoziona fa sei di nuovo incinta che meraviglia diamo un fratellino a Hensley e Denise dice no no calma calma non sono incinta però stiamo pensando di riprovare che a me sta roba mi lascia perplessa cioè devi informare tua suocera che in questo periodo stai scopando di brutto con suo figlio cioè aspetta di essere incinta prima di dire le cose no a meno che non vuoi che tua suocera assista nel senso è magari un invito guarda Denise è una persona particolare poi lo vedremo ma non credo non credo ok questo succede proprio un paio di settimane prima del loro anniversario quindi del famoso del famoso weekend insieme che avrebbero dovuto fare a cui Mike non è mai potuto andare perché appunto a questo punto della storia siamo ritornati al sabato 16 dicembre 2000 Mike esce di casa prima dell'alba per andare a fare sta caccia alle anatre sì in teoria deve andare con Brian perché Mike non andava mai a caccia da solo faceva il buddy system cioè se non c'era Brian comunque tirava in mezzo qualche suo amico suo fratello non andava mai da solo è una questione di sicurezza perché se cade ogni volta cade in acqua è figa rischia di morire cioè devi avere qualcuno che ti salvi cioè quindi non puoi andare da solo esatto esatto quindi Brian avrebbe dovuto accompagnarlo però all'ultimo momento ha dato buca perché mentre Mike doveva tornare per le 12 per partire per questo weekend anche Brian doveva tornare per le 12 perché dovevano andare a cena dai genitori di Denise che però abitavano in Georgia non lontano da lì in realtà abitavano entrambi ai confini quindi non era così tanto lontano però dovevano fare questa cosa perché alla fine è il 16 dicembre facciamo un ritrovo prenatalizio e il suo suocero gli aveva detto senti ma viene un po' prima che andiamo a caccia il suocero di Brian tutti vanno a caccia in questa storia il suocero di Brian e allora Brian la second da buca Mike dicendo guarda devo andare devo andare di là e Mike ormai era pronto va da solo eh beh certo cosa che di solito non fa alle 2 del pomeriggio c'è Denise che è spaventata perché appunto il marito non è tornato telefona tutti tutti all'inizio sono molto tranquilli dicono ma va ma cosa vuoi che sia perché Mike era un noto ritardatario era sempre ritardo quindi è anche strano che si è agitata così tanto in così poco tempo però ricordiamo che non stava rispondendo al telefono quindi quello fa agitare no e allora tutti i conoscenti si mettono a cercarlo come ho detto nell'introduzione trovano subito l'auto di Mike non trovano Mike e non trovano neanche la barca di Mike che lui si era portato dietro se l'era attaccata all'auto per andare allora i ranger organizzano le spedizioni di ricerca e in una di queste spedizioni di ricerca trovano effettivamente la barca che galleggiava sul lago vuota tra l'altro galleggiava in una zona dove non dove non aveva tanto senso che fosse perché in base alle correnti se lui era andato dove si va a cacciare le anatre in base alle correnti di quei giorni avrebbe dovuto trovarsi da un lato invece era da un altro però io vabbè può anche essere un caso purtroppo no se le correnti tirano da una parte la barca è vuota la barca seguì le correnti esatto ma era in una zona dove c'erano tipo dei tronchi cioè c'era tipo incastrata è strano che si fosse incastrata in quella direzione però non è una prova di niente questo io ve lo dico perché così avete tutti gli elementi a quel punto quindi dovrebbero arrivare i sommozzatori per vedere se è affogato per cercare il corpo a questo punto però i sommozzatori non possono immergersi per cercarlo perché essendo dicembre sarebbero a rischio di ipotermia a immergersi nel lago Cheryl ovviamente è disperata ricordiamo che tra l'altro cos'era due anni prima aveva anche perso il marito sta donna adesso all'improvviso le sparisce il figlio lei fa di tutto per farlo ritrovare perché lei dichiara che non ha intenzione di festeggiare il Natale senza suo figlio cioè Natale gli dà proprio la scadenza a Natale devi essere a casa non mi interessa che sei scomparso a Natale devi essere a casa purtroppo il Natale arriva e Mike non è stato trovato le ricerche infatti procederanno fino a febbraio e in queste ricerche Brian è sempre in prima fila lui vuole assolutamente trovare il suo amico tra l'altro si sente in colpa perché non era lì per salvarlo per la terza volta eh certo e a quel punto non ci sono tracce né di Mike né del corpo e quindi si inizia ad ipotizzare che possa essere stato mangiato dagli alligatori perché in quel lago lì oltre alle anatre ci sono pure gli alligatori sì sì che poi se sei un abituato a cadere in acqua comunque finire nel buco degli alligatori i precedenti ci sono effettivamente eh sì e quindi ormai dopo oltre due mesi di ricerche in cui non è stato trovato nulla tutti si arrendono tranne ovviamente Cheryl Cheryl non si arrende perché perché a Natale lei non l'ha festeggiato il Natale come promesso cioè lei l'avrebbe festeggiato solo con suo figlio e quindi a Natale lei è andata sulle sponde del lago Seminol a chiedere a Dio di darle un segno di qualcosa e lei dice che Dio le ha detto guarda che tuo figlio non è qui oh senti se gliel'ha detto Dio gliel'ha detto Dio no no sei sempre scettico scettico su queste cose eh io lo so lo so eh uomo di poca fede ma infatti io che lo dico a te sì esatto no allora se io chiedessi un segno a Dio e Dio venisse a dirmi guarda che a darmi il segno io comunque gli chiederei anche documenti cioè nel senso mi faccia vedere il tesserino eh c'è un tesserino qualcosa un distintivo eccetera che mi conferma che sei Dio vabbè lei dice che Dio gli ha detto che suo figlio non era lì che può voler dire mille cose lei dice io ho deciso che significava che lui magari aveva battuto la testa perso la memoria sta vagando da qualche parte ok sì nella speranza sì che sia ancora vivo ma certo è una donna distrutta dal dolore che si aggrappa quello che può e sta di fatto che non hanno trovato nessuna traccia del cadavere questo è vero e quindi lei è convinta che lui sia vivo nel frattempo essendo passati appunto più di due mesi dalla sparizione di Mike Denise decide che è l'ora di arrendersi alle circostanze dice Mike è morto perché non è che scompare due mesi così è morto e quindi cerca di farlo dichiarare morto e di organizzare un funerale quando organizza un funerale Cheryl si arrabbia tantissimo non può organizzare un funerale per uno che ha battuto la testa e ha perso la memoria no cioè non ce l'ha il cadavere non lo può organizzare il funerale e le due si scontrano anche in modo molto acceso e Denise dice tu devi capire che io e Hensley dobbiamo andare avanti ci servono i soldi dell'assicurazione esatto Marco era la frase dopo negli appunti ah sì esattamente anche se a dirla tutta non servivano così tanto sui soldi perché la casa era di proprietà Denise da poco aveva ripreso a lavorare anche se part time e Mike non ho capito bene ma lei ha incassato subito tipo il TFR di Mike una cosa dei soldi dal lavoro quindi non aveva questa urgenza dell'assicurazione sulla vita e magari in fondo pensione sì qualcosa del genere sì comunque sono arrivati adesso non mi ricordo però a centinaia di migliaia di dollari quindi non non bruscolini insomma no no e nonostante l'opposizione di Cherry Denise e la sua famiglia organizzano il funerale dicendo simpaticamente a Cherry guarda se non ti sta bene non venire tanto è solo una madre disperata rivolgiti a lei pure così comunque a quel punto dopo il funerale Denise cerca di incassare i due milioni di dollari della polizza sulla vita di Mike però le dicono che è troppo presto perché non ci sono prove concrete della morte devi prima farlo dichiarare morto per farlo dichiarare morto ci servono delle prove Brian cerca di aiutarla perché comunque era lui che faceva le assicurazioni a tutti ma questo ostacolo non si poteva superare solo con le conoscenze insomma quindi Denise aspetta che venga trovata qualche traccia della morte del marito e guarda caso tre mesi dopo questo funerale un cacciatore nota qualcosa tra la cacca di alligatore quindi vede della cacca di alligatore vede che c'è qualcosa contatta la polizia è una lettera d'addio di Mike nella cacca di alligatore ma è strana sta cosa perché nella cacca di alligatore vengono trovate la torcia di Mike che non so come fanno a sapere che la sua forse ci aveva scritto Mike non so sì no no tu puoi stabilire che la torcia sia di qualcuno solo se questo qualcuno è attaccato a questa torcia cioè perché se non è una torcia come un'altra a meno che effettivamente cioè Mike non c'eva essere la torcia proprio consulini il nome cognome indirizzo fosse particolarmente geloso dalle sue torce eh boh ma Denise ha detto sì quella è la sua però quante torce uguali ci possono essere ma non solo quello oltre alla torcia viene trovato il gilet da caccia di Mike sai quello con tutte le tasche che hanno i cacciatori e dentro una di queste tasche c'era il permesso di caccia di Mike il tesserino niente un po' di meno che è proprio di Mike la cosa strana è che sono passati a questo punto quasi sei mesi dalla morte quindi il coccodrillo era stitico la cacca sei mesi dopo no? è certo perché perché i coccodrilli gli alligatori sì scusa continuo a dire coccodrillo sono alligatori sì sì ma allora com'è che si chiamano quelli che i tifosi di queste bestie i tifosi gli studiosi gli studiosi sì l'ho detto prima gli erpatologi gli erpatologi sì adesso adesso avremo rivolte degli erpatologi l'associazione nazionale italiana erpatologi ma poi parlerò bene degli erpatologi a fine puntata sappiate sì che avranno un ruolo anche loro in questa storia ma infatti ma infatti comunque è noto a tutti anche ai non erpatologi che gli alligatori quando mangiano qualcuno gli mangiano anche i vestiti gli mangiano le torce e poi li cagano esattamente così come sono allora sì ecco questa è la parte i vestiti se li mangiano perché non penso che stanno lì a sbucciare le prede con me gli scoiattoli quando sbucciano l'arachide cioè penso che mordono e amen e quello che c'è c'è però vabbè appunto la cosa strana come hai notato tu è che è tutto in perfette condizioni è tutto come nuovo che ora al di là del fatto che ok non è stato è per caso vicino alla cacca di coccodrillo non è stato cagato da un coccodrillo però sei mesi in un lago perché è tutto in perfette condizioni è infatti infatti poi tra l'altro la cacca era modellata a forma di maica anche e quindi c'è 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 anche una forma di uomo con su questi qui sono i resti di mike vabbè ovviamente subito c'era il nota queste cose che non tornano e poi c'è anche un'altra cosa fondamentale che non torna sono stati fatti due mesi di ricerche per mike nessuno ha trovato il gilet come nuovo nessuno l'ha trovato sto cacciatore per caso sei mesi dopo è strano nonostante sia strano viene stabilito che queste sono prove sufficienti per stabilire che mike è stato mangiato dagli alligatori e quindi viene dichiarato morto in realtà la causa della morte viene ufficializzata come annegamento accidentale quindi la teoria è che lui è annegato e dopo l'hanno mangiato gli alligatori ed è per questo che non si trova il corpo ok e a quel punto denise incassa due milioni di dollari cheryl è furiosa e si mette a protestare si mette a protestare in modo serio 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 perché lei organizza proprio le manifestazioni fa i cartelli con la faccia di mike avete smesso di cercare mio figlio non è vero che è morto così è un complotto il fatto è che è facile prenderla per pazza cheryl questo è triste da dire è una signora che sembra proprio simpatica purtroppo è distrutta dal dolore per quello che è successo però lo vedete prima delle tragedie insomma doveva essere una persona particolare e quindi è un po' hippie ha questi capelli bianchi con i codini la prendono per pazza eh sì perché lei è proprio la vecchia stramba insomma però continua a fare casino e più lei fa casino più denise si incazza ok quindi ricordiamoci denise era già scocciata perché lei non voleva farlo dichiarare morto quindi a un certo punto denise decide di confrontare cheryl e dice senti tu la devi smettere con questa storia perché io non voglio mai più vedere la faccia di mike sui giornali perché cheryl addirittura comprava gli spazi pubblicitari per mettere la foto di mike era proprio disperata sta donna qui fai non la voglio denise dice non la voglio più vedere sui giornali perché io devo andare avanti con la mia vita e poi mi confondi la bambina perché la bambina sa che il papà è volato in cielo tu le continui a dire il papà è vivo il papà è vivo la confondi c'ha due anni dobbiamo andare avanti se continui a fare così non ti farò mai più vedere e tra l'altro ecco una cosa inquietante che non lo so da un lato forse ha un suo perché a livello pedagogico dall'altro però lascia perplessi denise a questo punto aveva già fatto sparire da casa sua tutte le foto di mike cioè lei ci teneva che la bambina non vedesse foto di mike perché non voleva che si ricordasse del papà perché insomma era troppo piccola per capire non c'è nel senso a livello pedagogico non ne ho la più palida idea è un comportamento strano da parte di una madre di una moglie che ha perso il marito che amava questo sì mettiamo mettiamo nel senso e secondo me è un po' strano come cosa perché in genere si tende a ricordare il caro estinto e a farlo ricordare i figli cioè nel senso tu hai avuto un papà che t'ha voluto bene ha fatto questo ha fatto quello per te così però boh boh cioè da un lato dico forse col fatto che la bambina era ancora piccola quindi quando è morto il papà non aveva nemmeno due anni cosa aveva un anno quando è morto il padre quindi non dice non ha ricordi del padre quindi perché darle io dei ricordi che la fanno solo soffrire è una roba comunque mentre succede tutto questo intanto il matrimonio di Brian e Kathy è in crisi e nel 2001 Kathy e suo figlio Stafford vanno a vivere con i nonni con i genitori di Kathy e nel 2003 viene finalizzato il divorzio tra i due ok l'anno successivo Kathy si risposa con un collega tranquillamente quindi lei è definitivamente fuori dai resti del quartetto insomma sì a quel punto Denise si compra un'altra villa con i soldi che aveva ricevuto dall'assicurazione e inizia una relazione con un certo Chuck Chuck o Charlie lo chiamano in entrambi i modi quindi non so come lui preferiva farsi chiamare che è il suo capo perché lei aveva da poco ripreso sì l'avevo detto prima a lavorare part time quindi questo è il suo capo e il suo capo quando fa i viaggi di lavoro se la porta dietro anche se lei in realtà non dovrebbe andare nei viaggi di lavoro se la porta come accompagnatrice è una commercialista io il mio commercialista non me lo porto dietro infatti non ha tanto senso però se lo porta se la porta dietro e durante uno di questi viaggi di lavoro ad atlanta atlanta in georgia quindi un viaggio di lavoro perché è qualche ora da talassi quindi hanno preso l'hotel però non è che è dall'altra parte del mondo succede una cosa molto strana loro la sera stanno rientrando in hotel e nei corridoi dell'hotel vengono sorpresi da brian brian fa un un un'imboscata un'imboscata a denise e chuck minacciando di ucciderli con un coltello allora non muore nessuno ok non muore nessuno però a questo punto charlie o chuck come lo vogliamo chiamare dice a denise guarda io quasi quasi ti lascerei io direi che a posto così tu stai qua a tranquillizzare il pazzo col coltello io torno a casa e quindi si lasciano tuttavia nei mesi successivi denise denuncia chuck per stalking lo sai è una storia complicata questa praticamente appunto lei è stata aggredita da brian che era il migliore amico del suo defunto marito era insieme a questo chuck questo chuck la molla e poi pare che chuck però inizia a fare stalking a denise infatti lei lo denuncia ok ok sono tutti strani in questa storia perché comunque chuck dopo ritorna lo dico subito non me la racconta giustissima lui questo chuck sì dopo spiego perché ok ok comunque nei mesi successivi a cherry iniziano ad arrivare strane voci voci di una relazione tra denise e brian perché in giro per tallahassi iniziano a vederli insieme quindi tra il migliore amico di suo figlio e la sua vedova e però loro erano amici fin dalle superiori sì assolutamente sì però iniziano a correre voci che forse c'è qualcosa di più a questo punto denise è vedova e brian è divorziato certo ricordiamo anche questo a quel punto c'era inizia avere dubbi su proprio denise e brian perché lei già da subito aveva avuto dubbi sulla versione di brian quando aveva detto che aveva dato buca a mike perché lei sapeva che suo figlio non andava a caccia da solo quindi quella cosa da subito non le suonava giusta e poi lei è convinta che in tutta questa storia gli alligatori non c'entrino assolutamente nulla e quindi lei va a parlare con gli erpetologi eccoli che sono tornati assume degli erpetologi fa domande così gli erpetologi rispondono dicendo signora Cheryl ha perfettamente ragione perché gli alligatori con il freddo vanno tipo il letargo non è la parola giusta letargo che poi dopo gli erpetologi si arrabbiano però è per far capire nel senso che dato che loro sono animali a sangue freddo così quando le acque vanno tipo sotto zero loro si addormentano e il metabolismo si ferma quindi non mangiano quando fa freddo cazzo quanto vorrei essere un coccodrillo io un alligatori e quel 16 dicembre era una giornata particolarmente fredda l'ho detto anche prima i sommozzatori poi dopo non avevano potuto cercarlo perché la temperatura era sotto zero e quindi era impossibile che l'avessero mangiato gli alligatori è vero che la versione ufficiale era che lui fosse annegato però il cadavere non era stato trovato perché era stato mangiato gli alligatori e questa cosa è impossibile che sia successa sì quindi Cheryl va a dire questa cosa alla polizia la polizia dice ma va ma cosa ne sanno gli erpetologi è infatti allora Cheryl non si ferma continua a organizzare le manifestazioni poi parla con la stampa parla con la polizia con i politici scrive le lettere a tutti i politici a tutti i governatori continua a fare un casino pazzesco e lo farà per anni per anni e a quel punto dato che inizia ad avere dubbi su Denise e Brian Denise e Brian andavano nella stessa chiesa e infatti dopo un po' la gente aveva iniziato a notare che avevano iniziato ad andare proprio in chiesa insieme non che si trovavano lì e allora Cheryl andava davanti alla chiesa quando uscivano dalla messa con i cartelli con la faccia di Mike davanti col prete che andava lì a dire se ne vada nel prete il pastore se ne vada se vada a queste cose qua a quel punto Denise e Brian vanno a trovare Cheryl insieme e insieme dicono a Cheryl che avevamo avvertita da oggi in poi non vedrai mai più tua nipote quindi sapete che Denise già l'aveva detto smettila non ti faccio più vedere Hans Lee adesso conferma è strano che nel confermare vada lì Brian ma questo perché le voci di una relazione tra di loro non erano solo voci infatti nel 2005 Denise e Brian si sposano oh tutto è bene quel che finisce bene una storia d'amore un po' travagliata ma almeno l'abbiamo coronata con questo non era questo il senso con questo bel matrimonio con questo bel matrimonio e dopo il matrimonio succede un'altra cosa strana un giorno arriva Katie che voi dite è uscita dalla storia no ritorna ritorna arriva Katie e va a trovare Cheryl la mamma di Mike dicendo Cheryl guarda io ti devo chiedere perdono perché per anni non ti ho rivelato delle cose però adesso te lo devo dire io penso che Denise e Brian avessero una relazione da molto prima della sparizione di Mike e Brian ha mentito sul fatto che ha dato buca a Mike lui quella mattina è uscito quando io mi sono svegliata non era a casa saremmo dovuti andare a questa questo ritrovo dai miei genitori ma lui mi ha detto di andare da sola ed è arrivato il ritardo di due ore capito ma tu Katie adesso io ti prendo per il babero ti scuoto forte ti dico ma perché lo stai dicendo solo adesso c'è un motivo adesso te lo dico perché lo stai dicendo solo adesso sì avrebbe dovuto dirle prima tutte queste cose però temeva di ritrovarsi invischiata nella questione comunque in ogni caso insieme Cheryl e Katie vanno dalla polizia a raccontare questa cosa e Katie ha una prova con sé lei ha ricevuto una lettera allora in realtà sì ti ho detto è per questo che è venuta fuori adesso ma non è vero perché comunque la lettera l'aveva ricevuta già un paio d'anni prima di andare da Cheryl è complicato con le tempistiche la lettera l'ha ricevuta che aveva già divorziato da Brian ok ok però due anni prima di questo momento allora questa lettera gliel'aveva scritta Chuck quello che aveva avuto una relazione con Denise che poi era stato sorpreso da Brian col coltello e ma due anni cioè nel senso cos'era un anno dopo no allora è successa l'aggressione qualche anno dopo lui ha scritto la lettera e qualche anno dopo Katie è andata a confessare ok ok no è difficile ricostruire la cronologia perché nessuno fa le cose nel momento che dovrebbero farle le fanno tutti in ritardo sì che cosa dice questa lettera questa lettera dice che intanto Chuck spiega chi è e poi spiega perché sta scrivendo a Katie dice Denise e Brian hanno una doppia vita segreta stai attenta sono stati disonesti con te per anni quella relazione non era normale ne parla al passato perché forse quando ha scritto la lettera non si erano ancora sposati gli altri due sì lui ne parla al passato di questa relazione quella relazione non era normale era una relazione perversa coinvolgeva altre persone e atti sordidi e questa lettera poi descrive la famosa aggressione accaduta nell'hotel di Atlanta dicendo che Brian li aveva proprio segregati nella stanza d'albergo con questo coltello in mano minacciando di uccidere tutti e poi togliersi la vita poi dopo Denise era stata molto brava a calmarlo però lui era agitato Denise era riuscita a calmarlo però lui ha continuato a minacciare stavolta ha iniziato a minacciare Denise di postare online tutti i video di sesso di gruppo che la vedevano come protagonista quindi Brian nel suo cellulare ha dei video di Denise che fa sesso di gruppo video plurale tanti sì videos con l'essere finale videi 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 comunque questa lettera poi si conclude con un bel non fidarti di loro sì allora tra l'altro la lettera comincia ciao sono Chuck non fidarti di loro Charles quindi è proprio per confondere le acque allora io non ho niente contro questo Chuck però mi lascia perplesso questa mossa della lettera all'ex moglie di Brian boh non lo so poi lui è molto morboso nel dire atti sorditi cose così non mi convince tantissimo Chuck non so perché però vabbè comunque la polizia a questo punto raccoglie la denuncia però poi viene deciso che quella lettera non prova assolutamente nulla perché è sto Chuck che magari sta scrivendo cazzate cioè che prova è sta lettera non è una prova certo potrebbe essere di formazione esatto esatto e quindi nonostante l'impegno costante di Cheryl questo diventa un cold case quindi è un caso aperto su cui però non si indaga più e passano gli anni tanti anni arriviamo al 2016 il matrimonio tra Brian e Denise è entrato in crisi a questo punto perché Brian beve tanto ha chiari problemi di alcolismo probabilmente ha problemi anche di abuso di sostanze stupefacenti non ho proprio la conferma ma penso tirasse di coca di brutto però se non è coca è qualcos'altro comunque il fatto sta che era sempre stupefatto era sempre e poi il problema è che lui è un sex addict quindi un dipendente dal sesso che cos'è la sex addiction è una malattia che si sono inventati gli americani per giustificarsi c'è una puntata di South Park bellissima che descrive questa cosa no vabbè comunque è la dipendenza dal sesso che lo portava a frequentare giri strani ad andare con prostitute tra l'altro di strada per risparmiare e probabilmente a prendersi anche un sacco di malattie perché poi vabbè magari praticava il sesso sicuro però non lo so non lo so già che ci sei cioè nel senso quello lì fa parte del gusto no ah dici che visione millottocentesca della cosa che hai Marco no vabbè comunque in sostanza lui passava le serate a fare i coca e i mignotti tutta la notte e quindi Denise per tutti questi motivi chiede il divorzio per colpa ok durante questo periodo quindi dopo che Denise ha chiesto il divorzio che tra l'altro essendo per colpa ci sarà una causa legale quindi è un periodo estremamente stressante per Brian che come avremmo intuito era già un po' stressato perché per avere questi comportamenti vuol dire che sei un po' tormentato per qualcosa chissà cosa secondo me avete già capito tutta la storia però io continuerò a far finta di niente io vi lancio lì un po' di indizi e dovete risolvere la cosa comunque anzi poi a fine puntata fateci sapere se avevate immaginato che le cose sono andate proprio come sono andate o se vi eravate sbagliati e se invece l'avevate capito a che punto della puntata l'avevate capito ok questo giochino qua vabbè fa niente adesso dobbiamo dirlo all'inizio così prendiamo appunti esatto esatto e invece lo diciamo alla fine comunque durante questo periodo di enorme stress per Brian Stafford che è suo figlio che ormai è un adolescente dovrebbe avere 18 anni più o meno sì 18 anni e si è andato nel 99 eh sì mi pare siamo nel 2016 17 sì 17 anni il figlio si mette a curiosare nel cellulare del padre che è una cosa che non si fa non si fa non si guardano i cellulari degli altri mai soprattutto dei vostri genitori soprattutto se c'è un papà addicted a sesso droga e rock and roll esatto infatti lui trova centinaia e centinaia di foto di suo padre che fa sesso foto e video di suo padre che fa sesso anche in situazioni di gruppo anche cose strane che non abbiamo i dettagli di cosa siano queste cose strane che coinvolgono degli alligatori immagino no cose sessuali senza alliviattori e Stafford che avendo 17 anni è un cazzo di moralista si decide di interrompere ogni rapporto col padre ora perché Stafford era convinto di essere nato dalle api fiori sai quelle cose lì della cicogna ma infatti ha lasciato sotto il cavo Brian è un caso limite perché ha chiaramente dei problemi grossi ok Brian ha un caso limite però io non supporto i figli che vogliono sapere i fatti dei genitori cioè fatevi i cazzi vostri invece tanti adolescenti diventano super moralisti coi genitori io mi ricordo che avevo un mio ex che aveva scoperto che il padre faceva le corna alla madre era disperato è venuto da me piangendo gli ha detto vabbè ma cosa te ne frega ma sono affari loro cioè perché ti interessa e poi la cosa terribile è che lui e sua sorella hanno tipo confrontato il padre ma come ti permetti ma come ti permetti mi fa indignare cioè non sono il punto è che non sono affari tuoi tu non lo sai cosa succede nella vita privata che accordi hanno i tuoi genitori non lo sai no sì sono d'accordo il fatto è che nel senso questo qui sembra più un legame tra amici che uno dice vabbè nel senso tu hai le tue storie eccetera io non ci metto il becco però i genitori insomma sono parenti un po' più stretti degli amici no lo so però la sfera sessuale del genitore non è una cosa che dovrebbe riguardare il figlio secondo me sì e sono perfettamente d'accordo io non lo so anche io sono venuto fuori da un cavolo non ne voglio sapere voglio sapere altro però sì poi vabbè dipende comunque dalla mentalità del singolo nucleo familiare no vabbè certo comunque vabbè in ogni caso qui stiamo parlando anche di un caso limite e secondo me Stafford aveva altri motivi per tagliare i ponti col padre quello è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e quindi Brian si ritrova con Denise che gli sta facendo causa per il divorzio e tra l'altro sta cercando di prendersi tutto perché a volte cioè negli Stati Uniti quando fai il divorzio per colpa gli avvocati tirano fuori gli artigli e diventano delle lotte terrificanti sì ok invece di fare le persone sane di mente e dire dividiamo a metà oppure questo è mio e questo è tuo no ci si fa la guerra quindi lui già è in questo clima qua adesso suo figlio lo disconosce poco dopo la madre di Brian muore per cancro allo stomaco gli sta succedendo di tutto e già lui era in una situazione limite ok certo ok e quindi nel giro di pochi mesi perde tutto e perde anche la brocca e inizia a fare stalking a Denise un giorno Denise sta andando al lavoro sale in macchina tra l'altro sale in macchina distratta perché stava parlando al telefono con sua sorella è lì che parla al telefono sale in macchina dal sedile dai sedili posteriori della macchina esce fuori Brian con una pistola e gli dice metti giù il telefono e Denise mette il telefono in borsa ok e Brian dice inizia a guidare e quindi le sta dietro puntandole la pistola dice si però stai tranquilla voglio solo parlare lei con la pistola alla testa dice ma ok ma dopo che parliamo vuoi uccidermi lui fa no no tranquilla voglio solo suicidarmi è che ci tenevo che tu lo vedessi va bene ok come ho detto prima lei era molto brava a calmare Brian e incredibilmente riesce a calmarlo anche stavolta quindi lo calma e dice ascolta devo andare al lavoro ci vediamo stasera ok ci vediamo stasera e ci rimettiamo insieme no adesso chiamo l'avvocato annullo tutto per il divorzio e ora ho scoperto che ti amo di nuovo e Brian ci crede in tutto questo Denise aveva messo il cellulare in borsa senza mettere senza mettere giù la chiamata la sorella ha sentito tutto quindi la sorella corre al posto di lavoro di Denise per dire andiamo subito a denunciarlo e Denise non vuole sua sorella è super perplessa dice perché non lo vuoi denunciare c'era una cosa quello che ho sentito io era una cosa gravissima devi denunciarlo devi denunciarlo è pericoloso alla fine la stressa così tanto che Denise dice va bene ascolta già sono arrivata a ritardo al lavoro fammi finire di lavorare mi viene a prendere quando ho finito e andiamo a denunciare e infatti la sorella si presenta lì in anticipo e poi la porta alla centrale Brian viene subito arrestato per rapimento durante la preparazione del processo per rapimento Brian cerca disperatamente di ottenere un patteggiamento perché in Florida rischi di beccarti anche l'ergastolo per il rapimento perché rapimento malarmata e beh certo quindi cerca subito di patteggiare e ad un certo punto nella sua disperazione dice sentite facciamo un patto se io vi racconto qualche dettaglio che non è mai emerso sulla morte di Mike Williams e qua non è mai emerso sono parole chiave esatto esatto e qua la polizia rizza le antenne perché allora loro avevano la vecchia stramba che gli manifestava un giorno sì e uno no era un giorno sì e uno no perché nel giorno no era manifestare da un'altra parte ovviamente certo certo e lo sapevano che quel caso lì non riuscivano a chiuderlo e un po' dispiaceva anche a loro di non riuscire a chiuderlo quindi adesso si apre una nuova possibilità eh ma più più che dispiacere personale penso che fosse anche il fatto che non c'era il corpo certo di questa persona e quindi sì potrebbe essere morto potrebbe essere stato mangiato i coccodrilli però sono solo provendiziarie ci sono alcune cose che non tornano quindi no certo ma loro non è che hanno fatto diventare freddo il caso così no è perché non hanno trovato il corpo non sono riusciti a risolverlo quindi Brian si gioca molto molto bene nelle sue carte perché riesce a farsi offrire l'immunità per il caso di Mike che ora gli promettono l'immunità senza sapere che cosa lui starà per dire che è assurdo è assurdo è infatti vabbè comunque gli danno l'immunità e gli promettono che per il rapimento cioè gli danno l'immunità per tutto quello che dirà riguardo alla morte di Mike e gli promettono che per il rapimento non daranno una condanna superiore ai 20 anni che è tantissimo comunque però sì sì comunque lui accetta questo è il classico patto col diavolo che di solito si fa con le donne hai notato quando ci sono tipo le coppie killer viene di solito è la donna che fa il patto per incazzare lui sì ma anche hai ragione cioè nel senso che in genere lui quello efferato che spinge la donna poi a fare sì però statisticamente sì sì statisticamente sì si parla statisticamente poi adesso arriverà qualcuno a commentare però sono sempre gli uomini quelli cattivi ragazzi è un problema che dovete risolvervi voi i dati parlano comunque questo è quello che racconta Brian non ha volta ricevuto l'immunità racconta che alle 4 del mattino si era trovato con Mike non è vero che gli aveva dato buca però gli aveva detto senti io devo andare via presto quindi troviamoci direttamente al lago ognuno con la sua macchina perché se no andavano insieme anche con la macchina loro arrivano lì vanno in barca e Brian lo convince a mettersi già i pantaloni i pantaloni di gomma perché loro entravano proprio nell'acqua a sparare alle alle anatre solo che quei pantaloni lì li devi mettere proprio quando quando sei già nella zona con l'acqua bassa perché se ti entra l'acqua dentro sono tipo di plastica sono come gli stivali per la pioggia però però ti arrivano esatto ti arrivano tipo salopette esatto brava sì sono tipo salopette sono di gomma quindi non deve entrare l'acqua e se entra l'acqua l'acqua non esce esatto se entra l'acqua mentre tu stai affogando ti tira giù e sei morto infatti dice sì dai mettitelo che siamo quasi arrivati siamo quasi arrivati e poi Brian lo butta in acqua anche Mike cerca di risalire sulla barca ma Brian anche le due volte precedenti l'aveva sempre aiutato invece guida la barca più lontano quindi c'è anche visualizzarci la scena è tristissimo cioè vede il suo migliore amico che invece di aiutarlo ad uscire se ne va Mike riesce in qualche modo a liberarsi di questa salopette riesce ad aggrapparsi ad un tronco che c'era che c'era lì e allora questo Mike non so se ho detto Brian sì no no Mike e Brian a quel punto non sa cosa fare perché lui era convinto che Mike sarebbe affogato per via dei pantaloni di gomma non sapendo cosa fare avendoli il fucile per la caccia gli spara tra l'altro più volte in faccia per via degli spari deve cambiare il piano completamente perché il suo piano era abbandonare il cadavere incidente è la terza volta che gli succede stavolta era da solo nessuno l'ha salvato questo era in suo piano però ora ha la faccia crivellata da colpi quindi non può lasciare lì il cadavere allora non avendo pianificato la cosa si fa prendere dal panico tira sul cadavere se lo carica in macchina nel bagagliaio poi torna a casa a casa sua prima che dopo doveva andare dai suoceri ma anche qua quando state pianificando un omicidio non fatelo prima di andare dai suoceri prima di eventi in famiglia ma porca miseria ma perché sì ma perché esatto se uno pianifica un omicidio lo fa sempre in momenti in cui poi ha altri impegni sì ma fallo di domenica durante un giorno libero era un sabato questo però poi dopo c'aveva appunto il ritrovo con la famiglia comunque torna a casa probabilmente per andarsi a cambiare per poi partire che aveva detto a Katie di andare prima e però quando scende dalla macchina vede che sta colando il sangue dal bagagliaio come nei film horror e allora risale in macchina e va a seppellire il cadavere in un altro lago sulle sponde di un altro lago tra l'altro si mette a scavare in sta zona boschiva così chiaramente va a cercare una zona un po' nascosta si mette a scavare una buca e c'era un formicaio lì di fire ants che sono le formiche del fuoco tipo si le formiche di fuoco si sono quelle si chiamano così perché quando ti mordono hanno una specie di acido formico si che brucia esatto guarda ma mi sono sognata il nome scientifico si chiamano solenopsis le formiche di fuoco che lo pongono su tutto il corpo quindi lui poi si è presentato dei suoceri anche pieno di punture di insetto col maglione quello a giro via a giro colo se l'altro avevano tutti i maglioni natalizi infatti e quindi niente è per questo che lui arriva con due ore di ritardo al meeting con i suoceri e dopo questa confessione vanno a cercare il cadavere nel punto indicato da da Brian ed effettivamente trovano dei resti umani che poi con l'analisi del DNA verrà confermato sono di Mike ma il punto saliente della confessione non è la descrizione dei fatti ma il fatto che la mandante fosse Denise sì ma scusa scusa un attimo però lui si sarà tenuto i vestiti di Mike perché sennò il cocco no adesso te lo dico la cosa dei vestiti no 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 lui l'ha seppellito così com'era ok poi infatti racconta anche che erano stati loro lui e Denise a piazzare la giacca e la torcia dove c'era la cacca di alligatore perché Mike forse quel giorno aveva lasciato a casa il tesserino da caccia se l'ha dimenticato non lo so e lui aveva tanti gilet da caccia perché era un cacciatore appassionato quindi gliene ha messo lì un altro di gilet adesso il gilet la giacca dipende ma infatti faceva freddo quindi secondo me lui era uscito con la giacca con le tasche e in casa Denise aveva il gilet per quello il gilet possibile sì va bene ma poi se ero un cacciatore esperto non è che c'era solo un gilet no infatti infatti e quindi a questo punto viene arrestato anche Denise Brian tutto contento ha l'immunità con tutto che gli sono stati dati vent'anni per il rapimento di Denise quindi comunque non è che esce domani ecco e Denise viene arrestata al suo processo ovviamente il testimone chiave è proprio Brian sì no gli viene dato l'immunità nel senso sì gli danno vent'anni per il rapimento non gli possono dare la pena di morte per l'omicidio di Mike no gli danno gli danno l'immunità per tutto il caso di Mike cioè non riceverà una condanna ulteriore no no certo però vent'anni cioè nel senso lui baratta i vent'anni per il rapimento vent'anni massimo sì per l'immunità che in realtà comporterebbe la pena di morte l'omicidio in Florida certo certo ma anche se non avesse avuto la pena di morte in Florida non sarebbe uscito mai invece con vent'anni sono vent'anni regolari quindi puoi anche avere gli sconti di buona condotta quindi comunque la possibilità un giorno di rivedere i suoi familiari eh sì comunque proprio al processo lui nella sua testimonianza rivela che lui e Denise avevano una relazione iniziata subito dopo i rispettivi matrimoni ok e lui dice che tecnicamente potrebbe anche essere lui il padre di Hensley la figlia di Mike però dice non credo perché assomiglia a Mike quindi non dovrebbe essere mia però se facciamo un calcolo di tempistiche potrei anche essere io il padre e racconta che lui lui Brian sua moglie Katie e Denise avevano fatto delle sperimentazioni perché Mike era sempre a lavorare lavorava troppo e quindi loro tre hanno sperimentato un po' di sesso a tre così degli esperimenti tra amici solo che dopo quella prima sperimentazione a tre Brian e Denise hanno continuato a sperimentare in due eh sì sì e quindi hanno iniziato a incontrarsi in pausa pranzo perché comunque lavoravano entrambi e si incontravano in pausa pranzo a volte scopavano in macchina nel parcheggio dell'home depo che sarebbe tipo l'okai brico sì 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 pensavo sul tavolino del bar poi hanno iniziato ad andare nei locali per scambisti fare queste cose qui assumere prostitute per fare cose di gruppo e poi racconta una cosa bruttissima Mike andava spesso a fare viaggi di lavoro vi ho parlato di quando ha chiesto a Denise di andare a New Orleans con lui però era una cosa che capitava spesso e altre volte Denise comunque era andata con Mike prima della depressione postpartum e tutto era andata con Mike e quelle volte in cui l'era andata Brian li aveva seguiti con la sua macchina e mentre Mike era alle conferenze loro due scopavano cioè ma porca miseria ti rendi conto comunque Brian si innamora sì no ma tra l'altro non so se ti ricordi quando siamo stati a Roma che c'era che la mattina avevano la tele accesa e c'era la cosa quella sui tradimenti ah sì alta infedeltà quel gran programma molto realistico sì ma la storia era questa sì allora l'hanno copiata da questo è possibile la storia la trama era più o meno questa ah non ci avevo fatto caso sì che c'era tipo una coppia che si scambiava di là di là non c'era il morto ecco perché no sì perché non è un programma di true crime certo non c'era il morto però era questo qui che andava con la moglie a una conferenza e la moglie si innamorava del marito di un'altra che era a questa conferenza e quindi tutti e quattro si tradivano tipo tutti insieme tra di loro una roba così eh magari si sono ispirati a questa cosa anche se Mike non è che faceva niente con Kathy ma erano stati insieme prima quindi dai e quindi quindi vabbè e comunque a questo punto Brian vorrebbe lasciare Kathy e mettersi con Denise ma lei rifiuta dice guarda io ti amo io voglio stare con te io Mike non lo sopporto più però cioè non posso divorziare perché va contro la mia religione perché secondo Denise divorziare è un peccato uccidere il marito no ma 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 eh perché i dieci comandamenti dicono non desiderare la donna ad altri dicono anche non uccidere e infatti lei non ha ucciso lei è stato il mandante è vero e qui però lei desiderava il marito di un'altra che però non è sì vabbè di base dato che la sua famiglia era super religiosa l'avrebbero guardata male se avesse divorziato invece se fosse stata vedova tutti avrebbero detto poverina ok giusto sì 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 ma è giusto giusto è questo e Brian aveva appunto convinto Mike a fare questa assicurazione con questo premio così alto in realtà l'iniziativa era stata effettivamente di Mike però Brian l'aveva spinto per farsi la polizza che desse il premio più ingente chissà come mai comunque quando a Mike capitano quei due famosi incidenti in barca è lì che a Brian gli si accende la lampadina perché allora questi incidenti non erano tentativi di omicidio che poi lui si era pentito no erano veramente incidenti ma gli ha fatto venire l'idea a Brian insomma sta cosa è successa due volte può succedere tre e non c'è due senza tre esatto la sua idea era la prossima volta non lo salvo fine quindi ne parla con Denise di questa idea e entrambi decidono di procedere col piano allora Brian si mette lì organizza una delle loro battute di caccia però all'ultimo Brian è pronto per uscire andare a caccia all'ultimo Mike lo chiama per disdire dicendo guarda non lo so cosa c'è a Denise ma mi ha detto di non venire assolutamente quindi Denise se n'è andata in paranoia giusto giustamente perché a volte tu parli dici cazzate poi magari ci rifletti un attimo dici ma che cazzo sto facendo quindi è una roba del genere penso però a quel punto Brian si incazza tantissimo dice allora io ho pianificato tutto tu mi fai saltare le cose all'ultimo quindi la chiama e le fa un ultimatum dicendo scegli tu per me va bene tutto però o lo facciamo fuori o tra noi due è finita e Denise a quel punto dice va bene fallo però fallo questa settimana cioè fallo settimana prossima perché dopo io nel weekend non voglio andare via con lui perché la sola idea di fare sesso con lui mi fa schifo va bene però ammazzarlo per questo mi sembra un po' ed è così che si è poi arrivati a quel 16 dicembre era quella settimana dopo per cui si erano accordati durante tutto il processo Brian testimonia si inghiozzando probabilmente cioè lui è un mostro è chiaro però probabilmente al processo escono fuori tutti i sensi di colpa che ha soffocato per tutti questi anni stiamo parlando di tantissimi anni 16 anni sì sì e invece durante il processo che poi il processo era Denise Brian era un testimone durante il processo Denise lei si dimostra molto distaccata molto stoica che sarà un errore perché la difesa sostiene che non ci sono prove concrete contro Denise perché alla fine Brian chiaramente non è un testimone su cui affidabile sì attendibile attendibile certo non lo è e siamo d'accordo che è vera questa cosa obiettivamente non è un testimone affidabile attendibile scusa e poi quale altre prove ci sono ci sono tante prove ci sono messaggi così ma è tutto circostanziale non c'è una prova schiacciante anche la lettera di Chuck non prova assolutamente niente poi riguardo all'omicidio cioè se anche loro due hanno una storia non prova che l'hanno fatto fuori quindi non ci sono prove tuttavia la giuria decide che anche se le prove sono circostanziali la quantità di prove è talmente ampia da non lasciare dubbi e il fatto che lei si fosse mostrata così fredda e distaccata ha portato alcuni giurati a a votare per condannarla quindi viene trovata colpevole e condannata a life in prison without the possibility of parole quindi l'ergastolo fine pena mai che invece Brian che è quello che l'ha ammazzato se l'è svangata eh no lui ha fatto il patto lui ha fatto eh ma non va bene sta sul cazzo vabbè non lo posso dire tutte le puntate però sappiate che mi sta sul cazzo sta cosa comunque Clara quando farei tu il PM quando farei tu il pubblico ministero lì quello dell'accusa eccetera non scenderei compromessi su ste cose no ma non è questo è che non esiste che il mandante ha una pena più lunga dell'esecutore cioè io voglio mettere questa legge cazzo questo non si può fare ok comunque Cheryl dopo 17 anni di proteste ha avuto la sua vendetta finalmente fate conto che lei sapete che vi ho detto che scriveva i politici solo il governatore della Florida aveva scritto 2600 lettere cioè solo che appunto dopo tutti questi anni finalmente ha avuto giustizia però nulla potrà ridarle Mike lei poi al processo sapete che si può fare la dichiarazione dei parenti della vittima lei fa un discorso molto lungo che non vi sto a riportare però dirà Denise non solo mi ha portato via mio figlio ma anche mia nipote Hans Lee è stata cresciuta dagli assassini di suo padre e io non la vedo da quando ha 5 anni adesso ne ha 20 la ragazza quando lei dice questa cosa nel 2020 Denise fa appello e ragazzi la sua condanna viene annullata questo perché non c'erano prove schiaccianti ti ricordi pochia miseria tuttavia viene comunque nel processo d'appello lei viene annullata la condanna per omicidio ma viene confermata quella per cospirazione a scopo di omicidio quindi si becca 30 anni ok vabbè ok il che vuol dire che uscirà nel 2047 ci sta Brian invece uscirà nel 2036 quindi questa cosa continua a strammi sul cazzo comunque niente per chiudere questa storia tristissima con una notte ancora più triste Hansley non ha mai ripreso i contatti con la nonna con Cheryl perché non la vede da quando ha 5 anni e sua madre gliel'ha sempre fatta passare come una pazza che ce l'aveva con lei tra l'altro Hansley è come come e biasimarla è convinta che sua madre sia innocente che avesse fatto tutto Brian tra l'altro lei è cresciuta con Brian e Brian aveva spesso comportamenti violenti anche con lei la sgridava la disciplinava come se fosse sua figlia ma proprio in modo cattivo quindi per lei ha senso che ha fatto tutto Brian e non è neanche impossibile alla fine in base a quello che è venuto fuori no Denise c'entra ragazzi è colpevole però non è impossibile immaginare che abbia fatto tutto Brian e quindi lei non ha mai ripreso i contatti con la nonna sì però a un certo punto Denise ha anche provato a tirarsi indietro e Brian ha insistito per farlo quindi alla fine era sì però ha provato a tirarsi indietro ma non in modo convinto perché a quel punto quando ti dà l'ultimato un dici va bene non vediamoci più perché sei un pazzo assassino e finiva lì la storia certo e invece no però e questa è la triste fine di Mike Williams che non è stato mangiato dagli alligatori no no infatti infatti sembra un po' anche la storia lì della nemica di Tiger King Elizabeth adesso non mi ricordo no non si chiama Elizabeth eh sì adesso non mi ricordo Carol Baskin Carol brava Carol Baskin che il marito è sparito dove sarà stato forse è stato mangiato dai leoni di Carol sì 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 e quindi eh chi lo sa anche quella storia però effettivamente dei leoni costa un sacco la carne da dare ai leoni nel documentario Tiger King lo fanno vedere che è anche un problema nutrirli sì 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 comunque devi far sparire dei cadaveri fai due piccioni con una fava proprio ma assolutamente 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 sì a me comunque un dubbio ancora rimane su questa storia sì uno uno fondamentale se gli esperti coccodrilli di alligatori cioè si chiamano erpetologi gli esperti di erpes come si chiama vero però non c'è l'h inizia con la e erpetologi ah ecco ma a me fancrive sembra erpetologi tipo la valla romana vabbè niente niente vabbè ragazzi questa era la storia di della triste fine di Mike Williams una storia che sembra proprio uscita da quelle telenovelas no ma sì ma io pensavo io a un certo punto ho detto vabbè mi starà raccontando una stagione un anno e mezzo di 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 beautiful perché cioè le trame di beautiful sono quelle lì ma questa è la classica storia che dovrebbe essere corta e invece lunghissima perché poi ci sono un sacco di aneddoti che tra l'altro non ho neanche inserito perché non aggiungevano nulla di più alla storia però sì sì ma anche beautiful è una storia che potrebbe essere cortissima ma la dilatano cioè tu le puntate sono fatte di dialoghi cioè in tempo reale sono le puntate sì esatto di beautiful e niente ragazzi questa qui speriamo vi sia piaciuta questa storia speriamo non vi abbia dato spunti se siete innamorati della moglie del vostro migliore amico o cose del genere speriamo comunque fateci sapere cosa ne pensate quando avete capito che cosa cosa era successo che e se l'avevate capito giusto esatto fatecelo sapere su nei commenti di spotify oppure sul nostro instagram che è crimingcomedy.podcast oppure sul gruppo telegram che è crimingcomedy group e poi vi ricordiamo che il 24 luglio siamo a Roma quindi andate sul sito sulla sezione eventi live per prendere i biglietti probabilmente ci sarà già il link nel caso c'è il numero di telefono e la mail per prenotare e niente noi ci sentiamo settimana prossima per una nuova puntata di crimingcomedy e per il momento vi salutiamo ciao 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 Grazie a tutti.